Sì, 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 lo faccio, faccio tutto, tutto, anche tutto, anche tutto il resto faccio, sì, sì, sì. Ansia? Sì. Paura? Sì. Panico? Eh, sì, sì. Tensione? Nevralgie? Dolori muscolari e intercostali? Eh, sì. Forti mal di testa? Eh, sì. Cervicale? Eh, sì, sì. Sbalzi improvvisi di temperatura? Sciatica e torcicollo? Si chiama multitasking coatto e obbligatorio. No ragazze, donne, femmine, mamme, signore e signorine. Non è un dono della natura, non è una dote sovrannaturale, non è una funzione da donna bionica incorporata nel nostro essere animali simili a polipi, con tentacoli e ventose pronti ad acchiappare un cellulare che squilla mentre si scrive una mail di lavoro e il cane tira il guinzaglio durante l'allattamento mentre il ferro è caldo e bisogna stirare l'acqua bolla e pronta per calare gli appuntamenti da scrivere appena sull'agenda. Le assemblee, le riunioni, gli amici, i parenti, il citofono, i vicini, il condominio, le bollette e le multe. No, non siamo supereroine. No, siamo scemi. Siamo scemi. Grazie per la visione!